Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati in questo nuovo video Oggi volevo farvi vedere la mia nuova LOL Surprise e mia uscita Miss Baby Allora, io prima avevo la studentessa, cioè O e volevo farvi vedere quella che è mia uscita nuova, Miss Baby butacchia e fare pipì Allora, è fatta in questo modo, con la pelle più scura e lo chignon castano con lei è uscita questa coroncina poi ha questo bellissimo vestitino azzurro e azzurro più scuro con questa scritta Miss Baby e ha le scarpine bianchine con il fiocchetto, metti a fuoco fate in questo modo, gli occhi azzurri e anche il mascara e il rossetto color fucsia vedete il buchetto, se si vede, negli occhi non ce l'ha, non piange e guardate come è fatta bene l'acconciatura che era questa treccia che scende per di qua e poi vi volevo far vedere anche un'altra cosa vi volevo far vedere questo cappellino che ho fatto io aspettate, tiene una cosina qua ecco qua che praticamente, se volete il tutorial, lo scrivetelo sotto nei commenti un cappellino per le barbie qui sembrano i capelli rosa qui c'è la faccina e qui sono i capelli e niente, spero che questo video vi sia piaciuto se è così mettete un bel like e iscrivetevi al canale ciao, ci vediamo al prossimo video ciao